Siete soddisfatti di questa direzione stasera? Lei che ne pensa? Anche le date che sono state date? Erano quelle già decise alla direzione precedente, le date. Nel merito, la sostanza vera è che questa commissione che sta lavorando in effetti è arrivata vicina a trovare una soluzione unitaria. Allora, poiché continua, no? Quella a cui ha lavorato Gualtieri lì. Poiché ci sono, sono veramente vicini su cose che ci hanno diviso. Per il passato allora mi sembra che la scelta di Epifani non è che siamo un partito caratterizzato da un abbraccio continuo e senza divisioni. Ci sono state divisioni. Ora che siamo vicini nella commissione a trovare una soluzione che risolve i problemi, dice vabbè, allora finite, vedete di trovarla. Quindi io che in genere sono uno pronto a votare, sempre, perché a un certo punto bisogna decidere, devo dirle che stasera lo capite, insomma. Se c'è, siamo vicini ad un'intensione unitaria, facciamola. Tanti tempi sono duri, quindi un po' di unità non fa male. Senta Presidente, ma sul governo dell'Argentese lei come la vede, insomma, questa situazione? Per cui Fani dice nessun logoramento? Bene, è stata una scelta obbligata, legata alla crisi economica e al risultato elettorale. È servita. Adesso vediamo. Non è che ci sono molte alternative, anzi, mi pare che non ce ne sia nessuna.